Continua senza sosta l'attività amministrativa dell'ottava commissione consigliare permanente guidata da Orazio e Martino Ferro. Nella mattinata odierna, sopra luogo tecnico d'Aci San Filippo, dove si sta effettuando con operai del comune una potatura straordinaria degli alberi nella piazza principale. Ma nel particolare, presidente e componenti della commissione Turi Cutuli, Pippo Liuzzo, Gianluca Grancagnola e Francesco Grasso, hanno attenzionato alla questione viabilità, nello specifico segnaletica verticale e orizzontale, parcheggi e incroci. Sentiamo al termine del sopralluogo il presidente Orazio e Martino Ferro. Allora noi come ottava commissione trattiamo la questione della viabilità e qui ad Aci San Filippo stiamo questa mattina con tutta la commissione verificando lo stato di fatto, cioè come avviene il fluido veicolare. Noi come commissione daremo delle indicazioni all'amministrazione per migliorare sia nel fluido veicolare, sia nei parcheggi e sia nella sicurezza stradale. Perché qua ad Aci San Filippo abbiamo tanti ingroci pericolosi e cercheremo con le indicazioni che darà alla commissione di migliorare questi ingroci, che secondo noi sono pericolosi per la sicurezza stradale e quindi per i nostri cittadini. State lavorando molto sul territorio. Qual è la risposta dell'amministrazione? Qual è il ritorno che avete da parte di chi poi dovrà decidere materialmente gli interventi? Noi siamo in ottima sintonia con l'amministrazione, sia come commissione sia noi come consiglieri. Non diciamo di maggioranza perché poi alla fine noi rappresentiamo i cittadini e rappresentare i cittadini è un grande orgoglio per tutti quanti noi. E quindi mano a mano cercheremo di dare quelle indicazioni propositive che siano veramente di pungolo all'amministrazione per migliorare sia la questione, che io ripeto sempre la viabilità, e sia nella qualità della vita. Domani, altro sopralluogo tecnico, questa volta i membri della commissione si recreano nella popolosa frazione di San Nicolò. Venerdì 30 novembre alle 10.30 a Vampolieri. Lunedì poi, 3 dicembre alle 10.30, riunione in sala giunta per discutere ed affrontare la problematica inerente al servizio delle strisce blu in tutto il territorio comunale. E all'incontro parteciperanno altri membri della commissione, il sindaco Maesano, l'assessore alla viabilità Pellegrino, il comandante della polizia locale Forzisi ed il signor Salvatore Duro, titolare della ditta, che effettua il servizio delle strisce blu.